Un pareggio che a dirla tutta sa di vittoria. Inizia con un 2-2 in casa del forte Benevento fra le pretendenti alla promozione in Serie A, l'avventura della Pre-Red Canusa del Patron Lamonaca nel primo storico campionato di Serie A2. Nonostante il battesimo di fuoco, i rosso-blu del tecnico Tavone, in panchina al posto dello squalificato lo dispoto, sfoderano un'ottima prestazione, facendo del cinismo la loro arma migliore e con, fra gli altri, un impeccabile lupinella che sbarra la strada in più di una circostanza ai padroni di casa. Ben quadrati in campo gli ospiti che difendono e quando possono ripartono in contropiede, a differenza dei locali che, vuoi per la poca cattiveria sottoporta, vuoi per un lupinella versione deluxe, non riescono a portare a casa i primi tre punti stagionali. Il vantaggio della Pre-Red Canusa arriva dopo 5 giri di lancette, grazie ad una ingenuità dell'estremo difensore campano Mambella, che arrivato all'altezza della lunetta del centrocampo regala Pallasena, che da casa sua timbra lo 0-1. A nulla serve la buona mode di gioco creata dai Beneventani, a riposo e vantaggio Canusa. Nella ripresa la musica cambia fin da subito. Il Benevento aumenta i giri del motore, trovando il meritato pareggio con Milucci, che ricevuta palla da Renella, è abile con il piattone destro ad inzaccare nell'angolino basso alla sinistra di Lupinella per l'1-1. I Campani infiutano il sorpasso e 5 minuti dopo trovano il 2-1, grazie alla marcatura di Palmeggiani, che conclude, come meglio non poteva, una rapida ripartenza, bucando l'estremo difensore rosso-blu. Il vantaggio però non dura neanche due minuti. Battistoni semina il panico e dopo essersi fatto beffa di due avversari, serve a di che, ben appostato sul secondo palo, la sfera del 2-2 per il pareggio ospite. Nel finale il Benevento prova gli ultimi assalti alla Portofantina, ma l'organizzazione difensiva degli uomini di Tavone regge, regalandosi così il primo punto stagionale. Una buona prestazione al cospetto di un avversario con ben altre ambizioni. Inizia nel migliore dei modi il campionato della Play Red Canusa, che sabato prossimo, 1 ottobre, debutera ufficialmente davanti al proprio pubblico, ospitando il Bovalino, la giusta occasione per regalare alla città la prima vittoria stagionale.